Musica Nel salone delle feste e dei convegni del castello di Valbona, frazione nel comune di Lozzo a Testino, è stato presentato il libro Il castello di Valbona e i conti di Lozzo. Puccio Lacagnina, direttore del castello, ha aperto l'incontro ricordando al numeroso pubblico intervenuto le diverse occasioni in cui Don Antonio Bellamio aveva manifestato interesse per il fortilizio, interesse che lasciava intendere il suo proposito di ricercare maggiori informazioni di quelle normalmente disponibili sulla storia e sulle vicende accadute al castello e nel territorio circostante. E dopo un lungo periodo, quando ogni intendimento sembrava finito nel dimenticatoio, ha proseguito il direttore, ecco il libro dato alle stampe. Pubblicazione che è anzitutto un omaggio alla comunità locale, che lungo tanti secoli, vissuti spesso, faticosamente, e con sacrifici di ogni genere, ha fatto la storia di questa località. Ha preso quindi la parola l'autore dell'opera Don Antonio Bellamio, che ha intrattenuto i tanti concittadini coinvolgendoli con un racconto di vivo interesse che ha rifatto la storia di questo fortilizio, dalla sua costruzione avvenuta sul finire del XII secolo, fino alla caduta dei Cararesi e alla dominazione della Serenissima. Un lungo viaggio storico, che è anche la storia di Padova e del suo territorio, per non parlare di Verona, di Vicenza, di Milano e della stessa Venezia, tutte connesse in qualche modo con il castello di Valbona. Narrazione integrata da episodi d'armi, da vicende umane e da figure di uomini di potere, che ha conferito all'esposizione di Don Antonio una dimensione di grande realismo, forse anche per la suggestione creata dall'ambiente in cui si è svolta la serata. Buonasera a tutti. Dopo una ampia panoramica che ha fatto Don Antonio, penso che sia veramente importante capire quanta storia è passata per di qua e per il nostro territorio. L'intervento conclusivo è stato fatto dal sindaco, l'architetto Luca Ruffin, che ha illustrato le caratteristiche tecniche del fortilizio e delle modifiche che hanno operato cambiamenti nella sua struttura, portandolo all'aspetto attuale. L'architetto Ruffin ha anche descritto il sistema difensivo attuato nella cintura dei Colli Ugani nel periodo medievale. La cortina partiva da Castelbaldo e attraverso 62 fortificazioni, che potevano essere torri, vedette, fortilizie o castelli, allertava tutto il territorio e Padova. Abbiamo iniziato con uno storico parroco, abbiamo finito con uno storico segno. Tutto bene quello che finisce bene? Vi ringrazio e sosteniamo il castello. Bene, grazie, grazie. Don Antonio ha scritto altre storie prima di questa, dedicata a Valbona e a Lozzo. Prima di scrivere sul castello di Valbona ho scritto anche un altro libro, sempre di storie, perché è un po' il mio terreno, il mio hobby. Ho scritto la storia del paese che si chiama Campagna Lupia, che si trova in provincia di Venezia. Là dove c'è stato un contrasto e una guerra fra i Padovani e i Veneziani, la guerra che era stata, diremmo così, provocata un po' dall'espansione di Venezia e dalle paure dei Padovani di essere soppressi e compresi poi nel territorio veneziano e vogliono essere invece indipendenti. Quindi c'è la guerra che comincia nel 1372-73 e dopo un paio d'anni finisce sempre, purtroppo, diremmo noi i Padovani, con la vittoria dei Veneziani. Quando ha pensato che le vicende di questo fortilizio meritassero di essere raccontate? Quando l'ho visto la prima volta, quando l'ho ammirato dall'esterno e ho visto che c'era qualcosa di interessante, ma non comprendevo perché non conoscendo la storia non si può neanche capirla. E allora ecco la curiosità di indagare per capire un pochino quelle pietre, per capire un pochino gli avvenimenti che l'hanno erretto e l'hanno mantenuto ancora vivo e vegeto, diremmo noi con parola popolare, anche i nostri giorni. Ecco l'inizio, potremmo dire, dei primi incontri che ho avuto con questo edificio. È stato difficile documentarsi sulle vicende e sui personaggi dei secoli medievali che hanno operato nel territorio dei Colli Euganei? Le difficoltà sono parecchie, perché quando si tratta di storia locale e diremmo di paesi così di minore importanza, i grandi storici non li trattano direttamente. E allora per conoscerli bisogna leggere molti libri di storia e trovare gli accenni che si trovano sparsi in diversi, diremmo, trattati di storia. Per questo ho dovuto cercare, vedere, poi anche controllare che non sempre anche i storici non vanno d'accordo. E allora bisogna vedere chi ha ragione o chi ci pensa abbia ragione. Per cui è un lavoro molto lungo, molto lavorioso, molto impegnativo e diremmo che si può fare quando c'è tempo a disposizione e soprattutto passione, perché se non c'è passione forse queste cose difficilmente si portano a porta. Quale periodo nella storia del castello e della contrada ha suscitato maggiormente il suo interesse? Sì, il motivo diremmo che ha attirato un po' di più l'attenzione e quantunque è tutto interessante il periodo storico in cui questo ambiente viene utilizzato è il periodo in cui la famiglia dei Conti di Lozzo cambia un po' posizione politica. Quando cioè da gente che appartiene a Padova, il comune di Padova, anzi a Padova, avevano un palazzo dove attualmente sorge il famoso Palazzo proprio in quella posizione. Però per motivi politici, per interessi politici in un dato momento hanno pensato di cambiare bandiera e invece di stare con i Padovani si sono messi con i Verenesi, cioè dalla Scala in modo particolare con Can Grande della Scala. e quindi vediamo anche la sorpresa interessante proprio dei Padovani quando uno di loro più importanti comandanti perché siamo in un tempo un po' di guerra ecco, passa all'avversario e quindi l'attenzione è come volgere quella situazione scavrosa o essere violenti, cioè correre subito con i soldati oppure usare un po' di diplomazia e si vede come il comune di Padova si interroga su questa situazione un po' scavrosa. Perché costruire una rocca difensiva su queste terre un tempo scarsamente abitate, paludose e lontane dai centri del potere e della politica come Padova, Este e Vicenza? Inoltre a Lozzo, dall'altra parte del monte c'era già un castello. A Lozzo era il vero castello il castello dei conti di Lozzo poi sono stati chiamati cioè dei signori maltraversi i quali hanno voluto consolidare il loro potere e difatti non hanno costruito il castello sopra il monte come di solito si faceva sui Colli Ugani ma invece ai piedi perché ai piedi dei monti c'era la palude ed era una sicurezza più grande che non sopra un monte stesso. Così hanno fatto per il castello vero e proprio di Lozzo e hanno costruito un forterizio cioè un ambiente adatto per i soldati per la truppa all'altra parte, all'opposto del castello di Lozzo con anche l'attenzione che ponendolo in questo luogo si faceva anche un po' di attenzione su quello che passava accanto e cioè oltre la colina di Lozzo c'è la strada che va a Vicenza e quindi da quella posizione si poteva anche controllare e dominare chi passava per quella strada. Il motivo poi della palude era appunto la maggior sicurezza e maggior difesa che negli altri posti. La storia dell'età medievale è imperniata principalmente su figure maschili ma ci sono state anche donne che hanno avuto ruoli significativi in quei secoli e non solo sotto il profilo religioso. Nelle ricerche da lei compiute sono emerse figure femminili che andrebbero ricordate per le loro buone qualità a conferma del detto popolare che dietro un grande uomo c'è spesso una grande donna? Sì, dire la verità il proverbio ha molta molta realtà. spesso gli uomini sono aiutati dalle donne qualche volta potremmo dire anche rovinati ma nel caso nostro vediamo che hanno avuto questi personaggi donne veramente degne della loro posizione e quindi ecco abbiamo Adelasia che è la moglie di Ucione Conte di Lozzo, Ugo abbiamo anche un'altra donna Costanza che è moglie di Guido la quale si trova sepolta almeno c'è una lapide che la ricorda là nel fiostro del Santo e poi questa Adelmata che viene quasi glorificata dagli scrittori quasi del suo tempo come una donna straordinaria come capacità intellettuale come sentimento come fede e come anche senso di carità cristiana che sa aiutare tutti indistintamente sia le persone distinte cioè che dominavano nella situazione di allora nella società di allora sia anche la povera gente ma non solo con consigli che spesso dava a tutti ma anche con mezzi veri e propri si privava di qualcosa di se stesse per aiutare il proprio prossimo è una donna veramente che merita essere considerata Quale ruolo aveva la donna nella famiglia del signore fedatario e in quella del volgo? In pubblico era sempre in secondo ordine in privato invece era la donna che quasi dominava cioè la donna che dava l'indirizzo alla famiglia e la donna che dava l'educazione ai propri figli era donna che manteneva salda la fede nella famiglia stessa era donna che dava un indirizzo che molte volte forse il marito preso tante altre preoccupazioni non riusciva a dare e su questo possiamo dire le donne del Medioevo e ne abbiamo diverse non solo queste ricordate nel libro ma anche altre che ho trovato così nelle indagini meritano veramente considerazione e talvolta potrebbero essere anche adesso modelli di vita cristiana e di vita civile sempre la donna ha una posizione diremmo così educativa della famiglia e la persona che più forma i figli lo vediamo continuamente anche nella povera gente anzi spesso nella povera gente e la madre che dà una mano al marito sia anche nei lavori di fatica eccetera ma anche soprattutto educa i figli ai cui grandi valori per cui poi abbiamo le grandi persone che vengono fuori spesso anche dalla gente più comune le controverse tra potenti comportano sempre patimenti e sofferenze soprattutto per la povera gente come emerge dal suo libro cambierà mai questa tendenza alla violenza e alla soprafazione dei più deboli nonostante i molteplici esempi di bontà e di altruismo offerti da tante sante vite lungo la storia dell'uomo io spero che in questo campo ci sia un miglioramento e osservando la storia a me sembra che ci sia un po' di miglioramento che cioè la parte più pesante è sempre la povera gente che la sopporta però se confrontiamo l'attuale situazione nel mondo e quella di allora vediamo che forse qualcosa meglio va adesso basta pensare che quando c'erano queste guerre diciamo così fra città perché in fondo erano città-stato cosa facevano gli eserciti prima cosa cercava di distruggere gli avversari indebolendoli in che modo andando a distruggere le case della povera gente portando via tutto quello che avevano lasciandone la più nera miseria e poi si ritiravano senza magari fare nessun danno vero e proprio all'esercito avversario era un sistema questo che si adottava spesso nel medio elvo e che purtroppo anche adesso un po' meno si adopera ancora